Un cantiere da oltre 160.000 euro finanziato dal comune di Muggia dopo i 40.000 euro già spesi per la messa in sicurezza della copertura. È stato inaugurato questa mattina a Muggia l'ex infopoint di Caliterna a conclusione di un intervento di ristrutturazione che ha riguardato soprattutto la parte esterna. Nell'opera è stata compresa anche la terrazza verso il mare, distrutta dalle mareggiate dello scorso autunno e rifatta completamente. La struttura dovrà essere punto nevralgico di intermodalità tra vetture, bici e traghetto per Trieste che in futuro dovrà attraccare proprio al molo di Caliterna. Abbiamo affidato gli ultimi lavori di ristrutturazione della parte esterna dove si è ricoperto tutto con acciaio zincato, quindi brunito, con questo colore che comunque riprende lo stesso colore di prima. In più abbiamo ricoperto anche tutte le facciate e le colonne con il nostro masegno, la pietra renaria di Muggia. Quindi l'effetto sicuramente è molto meglio di prima, prima era comunque una struttura decadente. E quindi stiamo mettendo mano a questo angolo che dovrà essere il vero centro intermodale di Muggia, nel momento in cui avremo la possibilità di, con altri investimenti, di far attraccare il Defino Verde qui, perché qui dovrà essere il centro veramente di scambio tra traghetto, bicicletta e autovetture. Quindi da lì partiremo, continueremo con questi lavori, questi investimenti per rendere Caliterna un posto per l'accoglienza turistica.